Un tempo per uno, meglio le trecate nel primo, meglio il Fomarco nel secondo. Il risultato finale 0-0 dunque è giusto. Le occasioni principali dopo 5 minuti, un clamoroso gol sbagliato da Abraimi. A tu per tu con l'Attazio, il numero 10 del trecate prende il palo al diciannovesimo. A grande chance per il Fomarco, bravo Margheroli in fascia. La palla dietro per Gambale che calcia lato da posizione invidiabile. Nelle riprese le due occasioni migliori capitano al ventiseesimo. Lancio da metà campo, Margheroli al volo, super rolla. A negare la gioia del gol all'attaccante di casa è la 44esimo pulizione di Maglione, testa di Scarpinato su cui l'Attanzio si distende a terra e libia in corner.